Cagliari si conferma capitale del tennis nazionale per il settimo anno consecutivo. Il club di Monte Urpinu, dove il presidente Angelo Binaghi è di casa, ospita da sabato i campionati italiani di seconda categoria. A pochi mesi dal Challenger, 175 con Musetti, Darderi e Tiff Aoe, nel capoluogo sardo si assegnano gli scudetti del singolare e del doppio maschile. Una vetrina per conquistare i punti e scalare le classifiche, ma non solo gloria e speranza di arrivare in alto. Anche in palio è un monte premi da 13.000 euro. L'uomo da battere è il campione uscente Alessandro Ingarau, siciliano del Matchball Siracusa, vincitore delle due ultime edizioni del torneo. Tra i protagonisti più attesi è anche una vecchia conoscenza del tennis club Cagliari, Stefano Baldoni, ora al circolo tennis Giotto di Arezzo. Aspetta da 13 mesi la rivincita con il siciliano che lo aveva battuto in finale lo scorso anno. Una delle novità di questa edizione è lo spostamento di circa 30 giorni. Dalla data del torneo con l'obiettivo di rendere più semplice rispetto a fine luglio l'arrivo e l'accoglienza dei partecipanti aggiornando il problema del tutto esaurito negli aerei e negli alberghi, un contributo anche da parte del tennis alla destagionalizzazione del turismo. A parte i favoriti e teste di serie numero 1 e 2 Ingarau e Baldoni, promettono battaglia anche Tommaso Gabrielli, società tennis Bassano, e Filippo Alberti, circolo tennis Giotto, entrambi classificati 2.2 e quindi sulla carta leggermente indietro rispetto ai big. Ma attenzione anche al resto del gruppo. Il sardo che gioca nel Calabria Swin Race, Marco De Sì, i fratelli De Filippo, Edoardo Monti e Riccardo Mascarini. Negli ultimi anni tra i partecipanti anche giocatori come Brancaccio e Agamennone che hanno calcato campi dei tornei del grande slam. La finale è in calendario per il 31 agosto e il direttore del torneo, come da tradizione, è Andrea Lecca.